Sì, cazzo! Si torna la vittoria! Cazzo, così vi voglio! Cazzutti! Cazzutti vi voglio! Porca miseria! Juventus equilibrata operaia! Questo voglio io, porca di una puttana! Bravi tutti! Bravi tutti! E soprattutto i giocatori messi nel loro ruolo, specialmente al povero Danilo, specialmente al povero Danilo, cazzo! Che finalmente è andato a fare il terzino, lo è messo a fare il terzino. Quelli deve giocare Danilo. È centrale, se ti manca metti o Savona o Caballi, non mettere più Danilo. Hai capito? Comunque, bene tutti. Partita... partita... la partita gestita bene dopo il secondo gol, e soprattutto anche Celudinese non è che abbia fatto sì qualche tiro da fuori. Poi avevamo sempre la palla a noi, 62% di possesso palla. Qui 11 tiri a testa, 5 no, importa loro due soli. Quindi non è che hanno fatto chissà che roba. Più loro molti calci d'angolo, noi solo tre. Fuori giochi, 3 no, loro uno. Ammunizioni, 2 testa. Falli, 14 no, 12 loro. Precisione nei passaggi, 87% della Juventus, 83% l'Udinese. 316 passaggi, loro 539. Noi, 38% di possesso palla loro, 62%. E' così andata, ragazzi. Insomma, niente da... Cosa volete dire a questa partita? Una partita di... Come era quel film? Una giornata di ordinaria follia, no? Una partita di ordinaria amministrazione, diciamola così, dai. Non è che c'è proprio tanto da dire a questa partita. Una partita che dopo, diciamo, il secondo gol è scivolata questa Udinese che doveva essere chissà che roba, chissà che roba. Doveva perso in casa solo con l'Inter che... Ma l'Udinese è una squadra normale, l'Udinese. Non è che... Certo che noi arrivavamo da un momento di merda, da un momento di merda con critiche e sopra critiche dopo la schifosa partita fatta con il Parma, le partite con lo Stoccarta, poi, sì, buon, quella partita lì con l'Inter che ci aveva un po' tirato su di morale, no? Pensavamo, questa qui è la partita della svolta. Invece... E invece... Io avevo già puntato l'X su questa partita. Ero sicuro di pareggiarla anche questa qua. E invece... Questa è una Juve strana, ragazzi. Questa è una Juve strana... Ti pareggio in casa col Parma, va a vincere a Udine dove a Udine aveva vinto solo l'Inter a culo anche. Quindi... Poi ti vince in dieci all'Ipsia, ti perdi in casa con lo Stoccarta. Mi pare di vedere un po' lì la Juventus di... di coso? Di Pirlo. Una Juventus che ti batteva il Barcellona 3 a 0, ti batteva il Milan a Milano 3 a 0, poi ti perdeva in casa col Milan 3 a 0. Una Juventus un po' pazzarella. Diciamola così, un po' pazzarella. Comunque, contento. Adesso torniamo secondi a pari coloro. Stasera ci guardiamo. Chi cazzo gioca stasera? Mi pare il Milan a Monza, no? Aspettate che guardo, che guardo un saltino. Sì, stasera ci guardiamo il Milan a Monza. Vediamo se... Ovviamente, Milanini, ma devo tifare Monza perché bisogna che rimaniate il più lontano possibile. Ovviamente tifo Monza. che ormai, diciamo... Se foste... Pare un discorso un po' contraddittorio. Se fosse stati un po' più vicino, allora avrei tenuto per il Milan perché così eravate più vicini e potevate rompere i coglioni, darci una mano a rompere i coglioni quelli là. Non so se riesco a farmi capire. Però siccome ormai siete fuori... Milan e Roma secondo me sono strafuori dalla lotta per lo Scudetto e a questo punto qua spero che si allontani il più possibile il Milan e che ormai rimaniamo... Meno rimangono lì... E' meglio, eh? C'è il Milan... Lo prendo come... Come diciamo... Come alleato... Sarebbe stato il Milan un alleato per rompere le palle, ma ormai il Milan... Un po' anche mi dispiace. Più che altro per Morata, eh? A me dispiace per Morata perché Morata è sempre uno che si sbatte, che ci si fa due coglioni così e vederlo nel Milan di questi anni, in queste condizioni, a me dispiace un po' per Morata. Ecco, Morata ci stava bene. E' vero Giuntoli che ci stava bene senza andare a prendere destra e sinistra adesso attaccanti in gennaio perché so che un attaccante verrà preso a gennaio. Però vedremo, insomma, dai. Allora, per chiudere, non la faccio tanto lunga, domani faremo una bella disamina di quelle coi controcoglionazzi. Contento, contento per il risultato. Partita normale, tranquilla. Niente da... Niente di... 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 Trascendentale. Abbiamo fatto due gol, gestito. Ecco, questo... Questo bisogna fare. Una Juventus normale che batte un Udinese. Una Juventus normale senza... Senza Patemi. Senza Patemi. Forza Juventus! Ragazzi, si è vinto. Si è vinto. Si è vinto. Passiamo un fine settimana tranquillo. Oggi sul video ho detto che era domenica, invece era sabato, mi scuso. E comunque passiamo una domenica, un weekend tranquillo. Adesso ci prepariamo per martedì contro l'Aston Villa. Contro l'Aston Villa. E poi l'ultima partita abbiamo in casa abbiamo in casa il derby col Torino prima di nuovo della pausa della Nazionale. Che coglioni! Mi viene di nuovo male. Per poi ripartire subito con Milan-Juventus. Proprio... Un bacione a tutti i belli e brutti iscrizioni al canale like e campanellina mi raccomando. Ripeto, le maglie per i vincitori dovrebbero arrivare dovrebbero arrivare oggi è sabato domenica penso che lunedì lunedì massimo martedì arriveranno poi in settimana ve le spedisco. Quindi iscrivetevi al canale così potete vincere le maglie anche voi ma soprattutto abbonatevi al canale perché chi si abona al canale ha la maglietta diciamo assicurata. la maglietta dello store della Juventus assicurata chi si abona al canale. Questo volevo dirvi e... non scherzo eh non scherzo non scherzo questo mi pare mi pare che questi due sono il sesto il settimo che premio quindi quindi va bene così va bene così vi ringrazio sempre di seguire Michelone e che Michelone vuole bene a tutti lo sapete ciao raga e fatti bravi e sempre Forza Juve e Intermerda sempre ricordatevelo Forza Juve e Intermerda ricordatevi sempre grazie a tutti